Progetto Bosco è la campagna di comunicazione attraverso cui il settore foreste di Regione Piemonte promuove la valorizzazione del patrimonio forestale piemontese e lo sviluppo sostenibile del territorio, incentivando forme di cooperazione e iniziative di filiera corta. L'obiettivo è condividere metodologie di applicazione di un sistema virtuoso in un iter replicabile nel tempo e nello spazio. Relazioni digitali by MyLander si è occupata dell'ideazione della strategia comunicativa e della progettazione dei video che verranno utilizzati come strumento di comunicazione e promozione di buone pratiche verso amministrazioni locali, aziende, addette ai lavori e cittadini. Quello che facciamo noi qua è selvicoltura, la coltura del bosco, cioè il bosco viene coltivato e gestito in modo da valorizzarne tutte le funzioni. Casi di successo di filiera corta, foresta, legno e energia possono ispirare e incoraggiare altre iniziative di economia circolare per creare nuovi posti di lavoro a chilometro zero. È una filiera che porta molto lavoro, gente del territorio che può usufruire di questa ricchezza che abbiamo nei nostri boschi. La Regione Piemonte incentiva la nascita di forme di economia circolare basate su processi di produzione virtuosi ad alto valore sociale e locale. Quello che ci interessa è proprio utilizzare al fondo le risorse locali che ci sono in Piemonte, e soprattutto il legno, per fare economia e sviluppo del territorio. Un progetto multidisciplinare che si rivolge anche a coltivatori e proprietari terrieri per presentare nuove e più ecosostenibili modalità di coltivazione, così come a un pubblico ampio per informare su come si sostiene il ripristino delle funzioni che la foresta perde dopo un incendio. Sostenibilità, cooperazione e informazione, le parole magiche per una società sempre più attenta al futuro.